Barbara Cupisti è tra le finaliste al premio L'Arialpi 2012 del premio Miglior Reportage Italiano Lungo. Una ex attrice che adesso però è una giornalista con la G maiuscola e il lavoro che ha presentato e che l'ha portata ad essere tra i finalisti del premio L'Arialpi si chiama Fratelli e Sorelle, incentrato sulle prigioni, una realtà di cui ancora poco se ne parla, ci sono tanti appelli a destra e a sinistra ma realmente dentro non sappiamo qual è la vita delle prigioni. Spiegaci come è andato, come hai lavorato per arrivare a questo reportage. Allora io da tantissimo tempo, proprio per desiderio personale, volevo riuscire a capire meglio come sia vivere in carcere tutti quanti noi passiamo quotidianamente, in modo particolare nelle grandi città, vicino a queste carceri che sono ormai delle fortezze che stanno lì e sembra quasi che sia un mondo distantissimo dal nostro non ci rendiamo conto invece di quanto poi una volta entrati nella porta del carcere sia labile, come ti posso dire il punto di separazione tra la nostra vita e lo scivolare in una situazione che ti porta poi in carcere una situazione che ti porta all'illegalità. Anche perché le carceri italiane in questo momento sono piene sono piene, piene, piene zeppe di persone che magari sono dentro, prima di tutto in attesa di giudizio e di questi in attesa di giudizio il 50% quando sono terminati i processi e vengono ritenuti innocenti per cui tu hai un numero enorme di persone innocenti in carcere. L'altra cosa ci sono immigrati che magari vengono sorpresi senza il permesso di soggiorno e quindi chiusi in carcere, ragazzi tossicodipendenti e fino a qualche anno fa la tossicodipendenza non veniva assolutamente punita col carcere ma veniva considerata, come ti posso dire, una malattia sociale, veniva considerato un problema di cui occuparsi in un altro modo, non certo con la reclusione. Quali carceri hai visitato? Allora, noi abbiamo visitato grazie a questa collaborazione con il DAP e con il Ministero della Giustizia noi siamo riusciti ad entrare in tantissime carceri italiane, abbiamo fatto Torino, abbiamo fatto Milano, San Vittorio, abbiamo fatto Trento, abbiamo fatto Trieste, Roma, Napoli, insomma diciamo che abbiamo fatto l'Italia in lungo e in largo. E qual è stato il comportamento dei detenuti dinanzi ad una telecamera? Sinceramente è vero che davanti a una telecamera tutti sono portati un pochino a fare, come dico, a rappresentare un lato che si pensa possa essere più accettato dall'opinione pubblica. Quindi è logico che abbiamo trovato, come ti posso dire, detenuti che tutto a un tratto diventavano premi Nobel per la pace e direttori di carcere che anche loro di premi Nobel per la pace. Però ti devo dire che sinceramente le persone che abbiamo intervistato sono state molto sincere. Cosa significa per te essere tra i finalisti del premio Ilarialpi? Essere tra i finalisti del premio Ilarialpi per me è una cosa alla quale non credevo fino a poco tempo fa, perché per me Ilarialpi è sempre stata, come ti posso dire, un mito. Quando ho iniziato questo lavoro, quando io ho iniziato a fare la regia, era da poco successo il dramma. Io ti devo dire che l'ho sempre seguita un po' come un faro, perché nel mio lavoro quello che io cerco è raccontare la verità. Non mi interessa, come ti posso dire, dare il mio punto di vista o raccontarti una mia verità, ma mi interessa raccontare, cercare di essere il più equilibrata possibile, il più a disposizione degli intervistati. Quindi essere fedele ai fatti. Essere fedele ai fatti. Quindi per me lei è sempre stata una bandiera in questo senso. Chi racconta la verità è sempre in pericolo, tra virgolette, perché poche sono le persone che vogliono sentirsela dire.